PIN&GO nasce con l'intento di scoprire le bellezze e l'arte in Italia, un intrattenimento di qualità a misura di famiglia. Un unico contenitore dove trovare tutte le informazioni. Ogni museo, teatro e ogni attività per bambini ha una voce gratuita all'interno del nostro portale. Noi di PIN&GO siamo convinti che solo scoprendo il nostro passato meraviglioso possiamo disegnare il nostro futuro. Questa esperienza in Formaperm mi ha stupita perché fin da subito ho incontrato persone con cui ampliare il nostro business e con cui fare davvero rete. Dopo essermi attribuata all'età di 50 anni a dovermi reinventare, grazie a Formaperm ho avuto la possibilità di accesso ad una formazione di qualità che mi sta permettendo di lavorare alla creazione del mio nuovo futuro, ovviamente in PIN&GO. www.pIN&GO.com.info www.pIN&GO.com.info